Come state? Un saluto a tutti ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosi e iscrivervi e lasciare un bel like. Volevo purtroppo, purtroppo, sottolineo purtroppo, commentare quello che sta accadendo, quello che è successo a Milano ieri sera, che si spera possa non accadere ancora oggi, cioè i brutti scontri in zona Navigli in particolare, tra gli ultra del Milan e quelli del PSG. Notte di paura, scontri, un accoltellato, immagini di guerra in centro a Milano, nei locali dove la gente è lì, spensierata, a passare una serata con amici, con fidanzate, all'insegna del divertimento e del relax. Purtroppo è stato luogo di scontri tra una cinquantina di tifosi del Milan e gli ultra francesi, feriti purtroppo anche due poliziotti. In risposta, una sorta di agguato in risposta a quanto era accaduto a Parigi, dove gli ultraparigiani avevano cercato di sfondare la zona che comprendeva il settore, che comprendeva i tifosi del Milan, aveva lanciato un po' di tutti, però finiamola, non se ne può più davvero. Un agente è stato colpito da un oggetto con una ferita al labbro, un altro è stato accoltellato alla gamba, l'aggressore fortunatamente è stato arrestato, diversi accoltellati, uno tra l'altro è grave, insomma è qualcosa di vecchio, nel senso che io mi auguro che, mi auguro, però perso le speranze che accadeva tanti anni fa, ma accade ancora oggi, non si è andati avanti, è qualcosa di incredibile purtroppo. Tra l'altro per la partita c'è apprensione non soltanto per questo, ma perché ci sono 100-150 ultra del Paris Saint Germain senza biglietto, che proveranno a sfondare, e pare ci possano essere anche ultra del Napoli perché gemellati con il PSG contro quelli del Milan. Tutto ciò che riguarda ultra, ma c'entra zero con il calcio, ma purtroppo prende le prime pagine, le home page, perché sono fatti di un'assurdità incredibile, di fronte a quale possiamo dire soltanto un grande vergogna. Non se ne può più, andiamo avanti, ma basta. Mi raccomando, scrivete qui sotto il vostro commento, e indipendente dalla fede sono cose che a me hanno rotto, cioè stancato, rotto, andiamo a livelli ulteriori. Un saluto. Iscrivetevi, ci tengo.